Bentornati a tutti quanti! Oggi parleremo di un nuovo gioiellino made in Sant'Agata bolognese, ovvero la Lamborghini Huracan Tecnica. Andiamo a scoprirla insieme! Aerodinamica estrema, trazione posteriore, tanti muscoli e un motore straripante. Si può riassumere così in breve la Huracan Tecnica, nuova punta di diamante della gamma V10 del Toro e che, con molta probabilità, segnerà il canto del cigno di questo modello. Al centro del progetto troviamo un V10 aspirato da 5,2 litri che sviluppa 640 CV di potenza e 565 Nm di coppia, valori questi che vengono scaricati sulle ruote posteriori e che valgono uno 0-100 km orari in 3,2 secondi e una velocità massima di 325 km orari. Il tutto spalmato su 1.379 kg di peso a secco e traducendosi in un rapporto peso-potenza di 2,15 kg per cavallo. Il sistema LDVI Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata controlla ogni aspetto del comportamento dinamico della vettura e interagisce con sistemi e configurazioni allo scopo di restituire un precontrollo in logica feed-forward. Il sistema ruote posteriori sterzanti sfrutta un rapporto di sterzata diretto e di ripartizione della coppia e va ad affiancarsi al Performance Traction Control System modificato e ad una configurazione specifica delle sospensioni. 3. Le modalità di guida disponibili, strada, sport e corsa. L'impianto frenante carbo-ceramico sfrutta un sistema di raffreddamento pensato per massimizzare la dissipazione del calore, mentre in termini di stile si fanno notare un mastodontico profilo alare posteriore fisso, gli scarichi esagonali e nuove soluzioni volte a massimizzare l'efficienza aerodinamica. L'abitacolo mette invece in mostra i sedili sportivi ad altezza regolabile, un'interfaccia HMI riprogettata con un quadro strumenti più leggibile ed un sistema infotainment che permette agli occupanti di accedere a tutte le funzioni di connettività come Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa. La state già sognando anche voi? Grazie per la visione! Grazie a tutti.